La gente sa che presto arriverà, dolce cascata, la nevicata, in allegria con la famiglia mia, siamo benedetti e così sia. Si sente che l'atmosfera è magica, spirale celestiale è Natale. Con il rispetto delle nostre tradizioni, la cioccolata calda e i panettoni. Oh Massima dai, poche ore finalmente scoprirai quanti doni sono per te, sento delle voci dire che... Babbo Natale arriverà e il bambino sa che alle sei si alzerà, sveglia mamma e papà. Babbo Natale arriverà, cosa porterà? Tanta la curiosità, ma che sorpresa sarà? Se una cosa c'è, che cresce dentro te, oh non è pazzia, libera la fantasia, bello il presepe, l'alberello ancora di più, che... Una miriade di emozioni, oh Massima dai, poche ore finalmente scoprirai quanti doni sono per te, sento delle voci dire che... Babbo Natale arriverà e il bambino sa che alle sei si alzerà, sveglia mamma e papà. Babbo Natale arriverà, cosa porterà? Tanta la curiosità, ma che sorpresa sarà? Che bella storia, questa è come una conquista, tutti insieme a fare feste, ci sarà un regno di felicità. Sono sparite frasi strane e complicate, l'importante è sempre farlo con il cuore, auguri a tutti, buon Natale. Babbo Natale arriverà e il bambino sa che alle sei si alzerà, sveglia mamma e papà. Babbo Natale arriverà, cosa porterà? Tanta la curiosità, ma che sorpresa sarà?